no, che cosa vuoi dire? 5 o la monna! 6 o la monna! 6 o la monna! 5! 6! 3! 6! 6! 3! No, c'è, 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 passati! 6! 3! Matteo, grande! 7! 5! 6! 7! 8! 8! Betta! 10. 3! 5 giugno! 6! 5 vertebra! 10! 6 vertebra! Va, dei ufficiari! 10! 8! 6! 8! 10! 10! ti dico aia tua mamma guarda questa zappa l'arbitro dai dai l'ultimo raga la l'arbitro non l'arbitro 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 O tu, perai, perai